Mr Pagliari è arrivata una vittoria contro il Fano dopo una gran bella partita da parte della sua squadra ma anche da parte degli avversari, grande reazione da parte dei Rosso-Blu dopo i due gol che sono stati recuperati. Sì, grande reazione ma anche un piglio fin dall'inizio, pronti via dopo due minuti fai gol, raddoppi, ti fai recuperare, rimetti giù la testa e vai fino alla fine a cercare di vincerla. Potevamo chiudere la prima, abbiamo avuto tantissime situazioni da poter utilizzare, abbiamo preso due traverse, i ragazzi hanno fatto una prestazione importante, quindi complimenti a loro come al solito. Non solo una grande prova caratteriale ma comunque è venuto fuori il gioco del Gubbio, il gioco della sua squadra, che cosa le è piaciuto di più? Ma a me piace i progressi che facciamo, che fanno settimanalmente, quindi loro lo sanno quello che penso di loro e quello che pensiamo di loro e quindi a me piace vedere giorno per giorno, settimana per settimana la consapevolezza che la gente acquista. Una vittoria molto bella anche di fronte per i tifosi che hanno sostenuto la squadra in una sfida che magari anche per loro è molto sentita. Sì, beh l'ho detto sabato, ho detto che forse questo era un derby e allora se è un derby è più caldo e noi nel caldo ci stiamo comodi, quindi credo che ci siano stati comodi anche la gente della curva e tutti quanti si sono venuti a vedere e i ragazzi sono stati veramente molto bravi. Grazie a voi.